buonasera e benvenuti nella mia cucina la cucina di a tavola consiglia ragazzi questa sera vi farò un polpettone diverso dal solito un polpettone ripieno buono perché tu lo fai diciamo solo col formaggio dentro io lo faccio con i pezzettini di formaggio a volte ci ho messo i pezzettini di patate e il formaggio così diciamo al classico eh sì quello classico fai tu e invece questa volta lo andremo a fare ripieno e non solo ripieno ma in crosta di speck ok allora gli ingredienti 8 etti di macinato 100 grammi di parmigiano reggiano o grana padano va bene lo stesso cioè non è la stessa cosa però un po di noce moscata non ce ne mettiamo tanta perché ci piace una bella tritata di vero e bianco un pizzicotto di sale si voto è così ok sarà all'incirca mezzo un cucchiaino da caffè nuovo ok detto questo ci dobbiamo sporcare le mani e andiamo a mescolare il tutto noi avevamo già fatto quello che il classico sì più di una volta il polpettone classico e se volete vi metto nell'info box il link per andare a vederlo però che questo mi sa di più succulento saporito questo è più di dalla roma ignorante lo dicano anche fuori roma ignorante invece roma dicono senza la roma scusate la mia voce d'acitofono un po raffreddata tutto qua adesso che abbiamo quasi mescolato tutti gli ingredienti cosa dobbiamo fare dobbiamo prendere a scusate non ho detto ripieno il ripieno è formaggio a piacere quindi io avevo della cacciottina e ci metterò quella grosso grosso modo la quantità è a piacere nel senso che questo sarà circa due etti ma non li metterò tutti tanti un etto e venti di prosciutto cotto ma se volete ne potete mettere di più e un etto di speck ok servirà per la crosta servirà per la crosta un pochino di pan grattato anche che vi servirà prima di mettere lo speck proprio per fare una bella crosticina croccante allora mescolare meglio adesso sì e metto l'impasto con la mia delicatezza mettiamo il barattolo del pane perché non mi si arrotola ho perso l'uso della palagna addirittura ma tanto non ci faceva niente riesco a contare a memoria quindi non c'è problema allora schiacciamo lo potete fare anche con un mattarello se volete schiacciarmi il dito no dai non mi fa ridere la ciccia schiacciare la ciccia sale pepe e noce moscava quindi è stesso il polpettone tutta la carne trita ti basta sfogliare non fare sì esatto dobbiamo fare un quadrato e sopra andremo a mettere il prosciutto cotto e formaggio prima il prosciutto cotto perché fa da guscio al formaggio se non riesce fuori tutto 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 e poi andremo ad arrotolare vi serve la carta da forno o anche la pellicola se volete per arrotolarlo questo ovviamente diventa un calzone di carne un rotolo di carne una frutta di rollè allora prosciutto cotto io vi do un consiglio non prendete quello sottovuoto perché poi quello sottovuoto diventa una fetta sola una fetta sola è vero ma potrebbe essere più semplice metterlo è vero più sbrigativo voi non lo vedete ma c'è Manfredo che ha puntato il prosciutto cotto che lui adora e invece no e invece no allora io lo andrò ad arrotolare in questo verso quindi le fette di formaggio le metto nel verso in cui arrotolerò certo perché se non mi vanno a contrastare è una ricetta abbastanza veloce questa velocissima velocissima e neanche troppo costosa perché con una quindicina di euro soprattutto se andate in certi negozi dove hanno i salumi buoni ma con prezzi un po più bassi potete tranquillamente sbangarla e qua ragazzi io ho visto tante persone che comunque mi dicono eh vabbè però come si fa costa e allora mi sono inventata questa rubrica diciamo no se quella del risparmiamo insieme ma cuciniamo cose buone 15 euro è un buon prezzo si poi per un pranzo una cena per più persone assolutamente sì e adesso andiamo ad aiutarci con la carta da forno in questo modo come è stato l'hai riempito poco no vabbè lo sai come faccio io no dicevo qui si può mangiare anche in 400 persone ci mangiano ma in realtà qua ci mangiano anche 6 7 persone che mangiano normale non come te io sono come te io sono vegano ma quando mai quindi beh 6 persone 15 euro ci si può stare no non sia mai e che vince il formaggio ma che vince il formaggio un consiglio che doi non mettete la mozzarella non la mozzarella sciacqua caccia o latte caccia o latte poi non la trovate più dentro è tutta fuori ed è tutta fuori ecco perché ho messo formaggio piuttosto asciutto per proprio per quel motivo bravissimo che lei ricordato sta diventando ogni giorno più bravo mi sa che ne ruberà il lavoro prima o poi potrei fare andare in giro per i ristoranti a fare le tensioni si amore mio sicuro in realtà quando potevamo l'abbiamo fatto e come se l'abbiamo fatto e tu eri il più grande recensore di montelodondo vero è vero ho detto l'aria o il mondo ok mettiamo un po di pangrattato lo compattiamo in questo modo la carta da forno usatela poi per metterla nel forno e non è che muo la prendiamo è già bella usata la buttiamo no nel caso ci serve per mettere il fatto non si è buona niente il nostro polpettone o io l'ho fatto in versione un po più tra virgolette light perché se lo fate col bacon intorno allora gli facciamo proprio una corteccia ok ok ci vediamo a corteccia fatta il polpettone è fatto guardate che bello che adesso adesso lo mettiamo in forno a 200 gradi forno già a temperatura mi raccomando per circa 40 45 minuti ci vediamo per l'assaggio a se per caso vedete che la sommità mi raccomando mettetelo nella parte centrale del forno ma se per caso vedere che sopra comincia a diventare un pochino troppo dorato ci mettete sopra un foglio di carta da forno un foglio di carta argentata va bene a dopo è pronto ragazzi è ancora il candescente questo lo dovete far riposare un pochino ma io per farvelo vedere aperto l'ho tagliato guardate che meraviglia è meraviglioso ragazzi provate a farlo perché sarà un successone sicuramente e noi ci vediamo la massima ricetta e ce l'andiamo a mangiare ciao a tutti ciao ciao